Bella raga! Scusate vicini, scusate Questo è il mio primo video E sarebbe un videopresentazione Se L'avete capito dal Titolo Vi dirò Comunichiamo Eccetera Io abito Io Mi chiamo Mosca John Eliseo Mariano Ho 11 anni E compio gli anni Il 22 dicembre Mi piace giocare a calcio Ho una sorella Di nome Franz Alisa Mariano E A 15 anni E compio gli anni Il 6 aprile Allora Ho dei genitori Ovviamente E Sono Gobbo E Niente Sono Calcio Perché Sono dentro il barbone Ecco La sorella Calcio E Mercoledì parto Oggi Oggi è lunedì 17 Mercoledì 19 Quindi questo video Lo pubblicherò Domani Se riesco Ciao Ciao C'era mia sorella Perché mia sorella Stavo facendo una storia Se buttano a sinistra Fransi che mi chiamava Alex Marvel Lascerò la scritta Cua E Quindi stavo facendo Praticamente una storia Perché qua c'è una finestra E mi stavo facendo i video E quindi mi ha fatto il video Questo video durerà Ma poco Poco Perché Allora Perché i video presentazioni Ovviamente sono Cortissimi Tipo Due Tre minuti C'è il mio vicino No Praticamente Non ho letto niente Ho pure lì ma Una cosa Bella Bella Venite con me Veni d'osso conmigo La Se vedete C'è Un Piccione C'è C'è un piccione Chiaramente E' la cosa Di un piccione E da quando ci siamo Trasferiti Perché ci siamo Trasferiti E E' da lì E' casa sua Quella ormai Sono in controluce E Questa è casa mia Non vi faccio il tour Perché lo farò in un altro video E vado in camera Dei miei genitori Ma se faccio così Sono in controluce Ed Fa schifo Poi Ho un'altra possibilità Aspettate che accendo quello Professionale E quindi Questo Era un video Che faceva schifo Come tutti I miei Vecchi video E Non andatevi a vedere Perché poi E' nulla Poco Questa camera Dei miei genitori E' la mia E' la nostra Perché io e me Sorella Dormiamo La stessa camera Allora La nostra E' un po' in disordine Qua non c'è molta luce E qua c'è uno specchio Ciao John Qua c'è uno specchio Mia sorella dorme qua Perché Dovevamo comprare Il suo palco C'è il letto a castello Però Non abbiamo tempo E io dormo là Vabbè Vedrete tutto In un altro video E poi Farò Tipo I video In In Filippine E Dove andrò in vacanza Per tre mesi Fino a settembre E quindi Nulla Questo video termina Termina qui E Boh E ci vediamo Quando Cioè Preferò vedere questo video Buongiorno E Ci vediamo In Filippine Cioè Nel viaggio Delle Filippine Praticamente E Bella raga Delle Filippine Delle Filippine